Salve amici del Centro Medio Italiano, ultima settimana di maggio, tra caldo africano e temporali anche intensi. Vediamo l'evoluzione fino al weekend. Situazione sinottica che vede ancora un promontorio anticiclonico nel Mediterraneo centrale. Una vasta circolazione depressionaria si muove dall'Atlantico verso l'Europa occidentale. Nel corso dei prossimi giorni avremo ancora a tempo stabile sulle regioni del centro-sud, con temperature che potrebbero avere i 35 gradi, specie su Puglia e Sicilia. L'arrivo di correnti più fresche in quota potranno invece arrivare alla formazione di temporali sia sulle Alpi che sulla pianura padana, che localmente potrebbe anche assumere il carattere di nubifragio. Nella seconda parte della settimana avremo una piccola goccia fredda in movimento sul Mediterraneo occidentale. Questa, entro il weekend, potrebbe raggiungere l'Italia portando aumento dell'instabilità anche al centro-sud, oltre che il calo delle temperature, su valori più consoni al periodo. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.